Oggi ci troviamo a discutere e a votare l'istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Spieghiamo come funziona, Presidente, soprattutto i cittadini italiani. Le leggi che vengono discusse in Parlamento vengono decise in una conferenza dei capigruppo, dove per regolamento la maggioranza, in questo caso ovviamente il PD, che ha un nutrito numero di parlamentari alla Camera, ha la possibilità di presentare e chiedere la candidalizzazione di delle proposte di legge, con ovviamente un certo grado di successo, cioè di vederle arrivare non solo in Aula ma anche approvare. Ebbene, secondo voi il PD, il PD, nel Paese più corrotto d'Italia, in un Paese comunque con tutte le difficoltà che sappiamo, cosa avrà scelto come proposta nella sua quota? L'abolizione del vitalizio per i condannati per mafia? La proposta di legge sul reddito di cittadinanza? L'istituzione di una class action seria? Una proposta ancora migliore di quella presa in giro che la legge anticorruzione ha approvato al Senato? Una legge sulle fondazioni dei politici? Una legge sul sistema delle nomine dei dirigenti generali delle ASL fatte con concorso anziché con nomina diretta? La prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico? Il conflitto di interessi? Il dissesto idrogeologico? No. Il PD, come priorità, ha l'istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, cioè di tutte le proposte fatte, non solo ovviamente dall'opposizione, dal Movimento 5 Stelle, ma anche dagli altri partiti e anche dagli stessi deputati di SEL, del PD, di scelta civica e quant'altro? Ecco, il Parlamento italiano discute di istituire una giornata in memoria delle vittime dell'immigrazione e inizia un dibattito ridicolo sull'immigrazione, su come risolvere l'immigrazione, su come contrastarla, su chi se ne approfitta, su chi è più sensibile, alle vittime e così via. Tutto ciò non c'entrava e non c'entra niente con questa istituzione di questa giornata nazionale. Una vera e propria buffonata. È una buffonata alla quale tutti coloro che hanno fatto una proposta di legge maggiormente prioritaria di queste dovrebbero ribellarsi. Perché vedere le proprie proposte di legge messe da parte e vedere questo, l'inutilità del Parlamento italiano, dovrebbe quantomeno farci vergognare. Mentre noi abbiamo la gente che dorme in mezzo alla strada, le persone che muoiono nei pronti soccorsi, abbiamo le strade che crollano, abbiamo milioni di poveri, circa nove milioni. E non sto qui a raccontare cosa succede ogni volta che piove in questo Paese, perché lo sappiamo più o meno ogni anno, appena piove e cosa accade, ecco, voi avete questa priorità. Cioè voi siete fuori dal mondo. Io non capisco come possiate pensare di votare a favore di questa proposta, ma non nel merito della proposta. Voi dovreste dire è un'offesa alla mia dignità di uomo. Quando il signor Cuperlo, il deputato Cuperlo, fa il suo bellissimo intervento sulla sensibilità, sulle storie di queste persone che vengono dagli altri Paesi, per cercare di spiegarci come è importante ricordare, noi dobbiamo ricordare le tragedie che vive questa gente. E chi è che si ricorda di quelle persone che muoiono in quelle merda di pronto soccorsi che abbiamo in Italia? Chi è che si ricorda di cosa significa fare una chemioterapia? Una chemioterapia, magari una clinica privata, perché negli ospedali pubblici c'è lo schifo. Chi è che se lo ricorda? Non avete un briciolo, un briciolo di sguardo a questo Paese? Non avete la minima concezione di cos'è la realtà? Non so se vi è mai capitato, per esempio, e immagino di sì purtroppo, di fare una notte, di affrontare una notte in un ospedale mentre magari il vostro caro, il vostro parente soffre, sta male o magari ci sono altri parenti in condizioni ancora peggiori o rischiano la vita. Non so se magari avete mai aiutato delle persone che non hanno una casa, non hanno nessuno e dormono al gelo e al freddo o persone che sono costrette al suicidio perché non riescono più a pagare le tasse. Ma, Presidente, si potrebbero fare migliaia di esempi di problemi che abbiamo in questo Paese. Però io non ci credo che in tutti i deputati del PD non ci sia un briciolo di sensibilità nel dire che effettivamente, forse, a prescindere dal merito dell'immigrazione o meno, del ricordo delle vittime o meno, forse questa non era la priorità. Forse noi come PD, nella nostra quota, visto che abbiamo una responsabilità nei confronti del Parlamento e di tutto il Paese, ma sembra solamente che avete una responsabilità nei confronti del vostro portafoglio, inserite una legge assolutamente inutile. Perché non dite niente sul come vengono scelte le vostre proposte in capigruppo? Prendete costantemente in giro gli italiani, dibattendo con la Lega se siete contro o a favore dell'immigrazione. Una presa in giro. Chi ha finanziato i campi Rom? Che si lamenta dell'accoglimento degli immigrati in maniera scriteriata? E chi invece ha visto ogni immigrato come un salvadanaio? Ricordiamo mafia capitale, lo schifo fatto comune. Secondo lei, noi dovremmo fare, come tanti deputati che magari sono contro questa proposta, però per evitare malumori all'interno del partito a livello mediatico, dovremmo uscire dall'aula o stare in aula e magari non votare? No, noi una dignità ce l'abbiamo e noi votiamo contro perché questa proposta non è degna di stare in questo Parlamento, in questo momento storico, in questo Paese.